siamo al voto disciplina dopo questa partita real corea che gioca in casa per la prima volta è il green team kai ma da chi cominciamo allora 10 10 comportamento sono comportati bene quindi fair play vi è piaciuto anche io confermo il 10 sono comportati benissimo bellissima partita tutti insieme ben vengono le serate così alla fine bravi 10 anche da parte dello staff bravi ragazzi